Il giusto merito e il giusto riconoscimento a tutte le nostre ragazze e tra di loro c'è anche chi ha sgobbato tantissimo a recuperare il pallone come Valentina Torrese ma non è che l'hai fatto solo oggi, l'hai sempre fatto, oggi in modo particolare ti meriti anche tu ovviamente e allora sentiamo il tuo commento Vale, perché è stata una grande prova, è una grande soddisfazione credo Sì, molto, grazie Sì, allora l'obiettivo della partita, ci eravamo parati chiaro, era sicuramente far meglio rispetto all'andata perché era stata forse una delle poche partite dove non eravamo proprio riuscite a esprimere il nostro gioco Era tenendo un po' negli spogliatori, diciamo così Esatto, e c'era rimasto proprio lì che volevamo uscire oggi almeno a testa alta e far vedere comunque come sappiamo giocare Mi è piaciuto molto, mi sono divertita un sacco oggi perché ho sentito proprio la squadra unita Eravamo tutte concentrate, volevamo far bene e poi è andata bene a tre punti Poi in casa abbiamo sentito tantissimo il pubblico che va ringraziato Va ringraziato assolutamente, ci dà sempre quel qualcosa in più che fa la differenza Oggi l'ha fatta Bravo, anche a voi, complimenti anche a Valentina, brava Grazie, ciao